Eccoci qui al nostro approfondimento. Il focus di oggi è sui farmaci generici o detti anche equivalenti, perché in seguito a studi clinici appositi si dimostrano bioequivalenti rispetto ad un altro medicinale cosiddetto brand, cioè di marca, il cui brevetto è scaduto. Un argomento che rappresenta una svolta epocale rispetto al passato e molto sentito da noi consumatori perché parliamo di prezzi, di costi, ma soprattutto i generici o equivalenti costano, perché costano fino alla metà, arrivano fino alla metà del prezzo di quelli marcati o brandati. Però siamo sempre di fronte ad un dilemma. I farmaci generici, quanto sono davvero equivalenti ai farmaci di marca, cioè uguali non solo nel principio ma anche negli effetti su noi utenti, su noi pazienti? Ebbene, recentemente una sfida tra farmaci generici e farmaci brand è stata organizzata da Doc Generici, un'azienda nata da tre gruppi farmaceutici importanti come Chiesi farmaceutici e Zambon, aziende italiane, ed Apotex, leader nel mercato americano nella produzione e distribuzione di farmaci generici. Questa sfida, ed usiamo sempre il condizionale che è d'obbligo in questi casi, sarebbe stata vinta proprio dai generici, con il risultato che non ci sarebbero differenze significative tra farmaci generici e farmaci di marca. Questa è la conclusione che emerge dai risultati preliminari del primo studio di confronto tra i due tipi di farmaci. L'obiettivo primario dello studio, presentato a Roma in occasione dei recenti congressi SIA, SIMI e SISA, cioè le Società Italiane di Ipertensione Arteriosa, Medicina Interna e Arteriosclerosi, era di valutare aderenza e persistenza di alcuni farmaci generici rispetto ai farmaci originatori. Sono stati inoltre valutati altri aspetti come ospedalizzazione, mortalità, servizi specialistici, consumo di molecole, analisi dei costi, budget, impact ed altre cose come per esempio lo studio è stato condotto su oltre 350 mila pazienti appartenenti a 5 ASL Lombarde. Si tratta del primo studio con queste caratteristiche che per portate e risultati rappresenta davvero una pietra miliare nella storia dei farmaci generici in Italia. Sono state confrontate popolazioni omogenee per età e sesso in trattamento con farmaco Brand o con il relativo farmaco generico e sono state analizzate 6 molecole specifiche per altrettante aree terapeutiche, cioè la dislipidemia, cioè la elevata concentrazione di grassi nel sangue, l'ipertensione, la cardiologia, la psichiatria, l'osteoporosi e la diabetologia. L'età media dei pazienti coinvolti in questo studio è stata di 68 anni e gli esiti considerati sono aderenza, persistenza in terapia, mortalità, consumo di risorse ed altri costi medici come le ospedalizzazioni e le visite specialistiche. L'introduzione dei farmaci generici è un passo importante nel controllo dei costi sanitari e nel liberare risorse che possano essere utilizzate per terapie innovative. Allo stesso tempo è fondamentale dimostrare però che i loro effetti misurabili sulla popolazione siano del tutto confrontabili a quelli del farmaco cosiddetto originatore. Ma vediamo per patologia quali sono stati i risultati dei test effettuati appunto da questa azienda specializzata che si chiama Doc Generici. Per ipertensione e dislipidemia, secondo il dipartimento dell'azienda ospedaliere di Brescia che poi ha analizzato assieme ad altri ospedali o istituti universitari ha analizzato i test, i dati preliminari dimostrano sostanziali uguaglianze in aderenza e persistenza terapeutica, ospedalizzazione, ricorso a visite ambulatoriali. Per quanto riguarda l'utilizzo di un generico e uno di marca in circa 120.000 pazienti per la prima e di 90.000 per la seconda. Cardiologia, secondo l'ospedale San Raffaele di Milano, il propafenone, una sostanza usata soprattutto per la prevenzione della fibrillazione atriale e di altre aritmie sopraventricolari, non ha evidenziato differenze significative tra generico e farmaco originatore per i principali punti considerati, cioè persistenza, compliance e ospedalizzazioni. Per quanto riguarda la psichiatria, sono stati confrontati i dati di efficacia e tollerabilità di sertralina generico e del farmaco di marca. Secondo il Dipartimento di Neuroscienze dell'azienda ospedaliere a Fatebene Fratelli di Milano, da una prima analisi emerge che non esistono significative differenze tra i due gruppi. Relativamente all'osteoporosi, sono state valutate eventuali differenze nel proseguimento e nell'aderenza alla terapia tra l'alendronato generico e l'alendronato di marca. Il campione selezionato di 5 ASL includeva qui 20.711 pazienti con età media di 73 anni e, secondo in questo caso la struttura di reumatologia al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo 34 mesi di osservazione la compliance non sembra essere statisticamente differente, ma i dati relativi ai giorni di proseguimento della terapia sembrano essere addirittura favorevoli al farmaco generico. Infine, per quanto riguarda le malattie endocrine, dagli studi effettuati su una popolazione con patologie croniche emerge una situazione preoccupante perché l'aumento della compartecipazione alla spesa dei farmaci da parte nostra, da parte di noi utenti, conduce ad una riduzione dell'assunzione dei farmaci stessi. In particolare d'esta preoccupazione il dato che siano soprattutto i diabetici ad assumere meno farmaci se costretti a pagare un costo più alto. La buona notizia è che nello studio in questione sembrerebbe che i pazienti che assumono il farmaco generico rispetto a quello di marca non solo risparmiano denaro, ma dimostrano anche una maggiore aderenza alla terapia e nessun aumento né di mortalità né di ospedalizzazione con una conseguente riduzione della spesa farmaceutica. Ecco, fin qui i test, però ripetiamo, organizzati, condotti da questa azienda che aveva doc generici che aveva ovviamente interesse a dimostrare la bioequivalenza perfetta fra il farmaco di brand e il farmaco di marca e quello generico. Ma vediamo un po' qual è la posizione dei farmacologi in confronto tra farmaco generico e farmaco di brand. La questione è delicata perché tocca gli interessi più svariati da quelli delle aziende farmaceutiche che puntano alla qualità del farmaco ma guardano anche al profitto, a quelli delle aziende dei generici che ovviamente puntano a smontare il mito del farmaco brandato come l'unico sicuro, a quelli dei medici anch'essi combattuti tra un fronte e l'altro ed infine agli interessi di noi cittadini consumatori che certamente non vogliamo rischiare con farmaci poco affidabili ma oggi siamo anche costretti a guardare ai costi che per taluni farmaci arrivano a livelli proibitivi fino a costringere molte persone a rinunciare a curarsi e questo in una società civile e democratica e intollerabile. Su farmaco generico e farmaco di brand sentiamo un'intervista con il professore Francesco Scaglione dell'Università di Milano e presidente della società italiana di chemioterapia, insomma uno dei grandi farmacologi italiani. È una intervista che corre su YouTube e che noi vi proponiamo di cui vi proponiamo un passaggio significativo di poco più di due minuti. Sentiamo. Le cure sia perché costano meno sia perché per motivi di concorrenza riducono i prezzi dei farmaci di marca cosiddetti. Opportunità ma bisogna stare attenti al loro utilizzo. Uno dei fenomeni qui bisogna stare attenti è quello del bioclip e spiego rapidamente che cos'è. Ora un generico per essere approvato deve essere bioequivalente al brand. Cosa vuol dire? Che la quantità di farmaco, di principio attivo che arriva nel sangue deve essere simile a quello del farmaco di marca. Simile quanto? Cioè può variare del più o del meno 20%. Ora immaginiamoci per ipotesi che un farmaco generico abbia una bioequivalenza del più 20% e un altro farmaco bioequivalente, è un altro farmaco generico dello stesso tipo, meno 20%. Entrambi sono bioequivalenti perché uno è più 20 e l'altro meno 20, ma tra di loro la differenza è del 40 e quindi non sono intercambiabili. Il problema dove sta però? Cioè se uno prende sempre lo stesso generico o sempre lo stesso brand, non c'è problema. Il problema è quando cambia. Se per ipotesi cambia tante volte durante il corso di una terapia cronica ci possono essere delle oscillazioni di farmaco nel sangue che possono portare a problemi, soprattutto per alcuni farmaci, gli antiaritmici, gli antidepressivi, ma anche i farmaci per terapia cronica noi non sappiamo esattamente che cosa possono provocare le oscillazioni problemi così importanti nel sangue. Mi chiedono spesso ma perché la bioequivalenza non viene messa sul foglietto illustrativo, sulla scatola del farmaco, in modo che io posso sapere se è più 10 o meno 10? Il punto è che la bioequivalenza non è un parametro fisso che caratterizza, la bioequivalenza con la clinica c'entra poco perché è un parametro regolatorio. Cioè serve alle agenzie regolatorie europee, nazionali per approvare il farmaco. Ma la pratica clinica è un'altra cosa e quindi è il medico che deve stabilire con il paziente il modo migliore per la cura. Ma come decidere? Quale farmaco scegliere tra gli equivalenti che sia il più adatto al paziente? Sentiamo qui il professor Francesco Vittorio Costa, un'altra autorità massima italiana nel campo della cardiologia e della farmacologia, professore di medicina interna dell'Università di Bologna e presidente dell'Associazione Scientifica di Aggiornamento Medico. Sentiamo. Se quel tipo di generico che andranno eventualmente a prescrivere ha una bioequivalenza vicino al 100% rispetto all'originale o molto lontano come consente la legge, ricordavo, meno 20 più 25% perché nella scheda tecnica dei farmaci generici non è previsto che venga segnalato qual è la bioequivalenza specifica di quel farmaco generico. Questo sta solo scritto nei dossier di registrazione che ahimè non sono consultabili da parte di nessuno, neppure da parte dei medici, quindi l'unico sistema che il medico ha per testare la validità di questi farmaci è provarli sul campo e vedere se funzionano. Purtroppo, diceva la letteratura, segnala diversi casi di inefficacia o di efficacia minore nei farmaci generici rispetto ai farmaci di marca. C'è stato un caso anche in Italia, ma anche in altri paesi, ad esempio con farmaci, come ricordavo, con ristretto indice terapeutico, ad esempio gli antiepilettici, molti pazienti che erano in trattamento con i farmaci di marca e che sono poi passati al trattamento con il farmaco generico, hanno avuto nuovamente crisi epilettiche e quindi sono dovuti ritornare al trattamento iniziale. Lo Stato in questo caso è intervenuto perché c'è stata una protesta da parte delle associazioni dei pazienti e dei loro familiari e rimborsa il prezzo completo anche del farmaco di marca. Questo però avviene solo in questo caso, non avviene per molte altre famiglie di farmaci in cui l'eventuale minore efficacia è difficile da evidenziare perché il paziente epilettico, se la terapia non è efficace, ha le crisi epilettiche. Il paziente che ha la pressione alta, il colesterolo alto, il diabete, avrà un minimo, modesto aumento del colesterolo, della pressione e di altri esami del sangue che il medico spesso non avverte neppure perché i controlli vengono fatti più sporadicamente. Ecco, va detto qualche dato importante, per esempio che i farmaci off patent, cioè a brevetto scaduto, rappresentano oggi in Italia quasi la metà del consumo territoriale, circa il 28% della spesa. Tuttavia la maggiore prescrizione si concentra ancora sui prodotti branded, a differenza di quanto avviene in altri paesi europei dove si privilegia invece il farmaco equivalente puro, long branded, con un consumo pari al 60-80% del mercato contro invece il 15% dell'Italia. Il farmaco generico a brevetto scaduto può portare ad un aumento dell'efficienza dei sistemi sanitari e può aumentare la proporzione della popolazione che beneficia di una copertura sanitaria. Ma è sulla maggiore consapevolezza del cittadino che occorre puntare. E poiché è sempre il medico che alla fine deve decidere per il meglio del paziente, torneremo presto, molto presto, su questo argomento. Già giovedì vedremo cosa ne pensano i medici di base sul confronto tra i due farmaci. Siamo in una fase, in un momento di grande cambiamento. La qualità e la salute sono certamente sovrani, ma su questo altare è scorretto che qualcuno speculi per conseguire il profitto e questo è intollerabile. Bene, è tutto per l'approfondimento di oggi. Grazie a Francesco De Angelis alla Regia. Ci vediamo domani. Grazie a tutti.